Come si fa la regia di uno spettacolo? Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Certe volte capita di essere chiamato per la regia di uno spettacolo. Magari non si vuol lasciar fare tutto a un tecnico, oppure c'è bisogno proprio di un DJ a un certo punto, a fine dello show, oppure se è a fare una serata e ci sono dei performer. E allora è importante saper gestire la regia di uno spettacolo e magari portare quella che è la mia esperienza per un tipo di lavoro che potrebbe essere interessante. Intanto non si tratta semplicemente di mettere le basi giuste al punto giusto. Bisogna avere un'idea complessa dello spettacolo, conoscere bene i tempi, interfacciarsi con tutti gli operatori, dai tecnici al presentatore e a tutti gli artisti presenti e da avere il controllo completo della situazione, anche quando le cose non sono proprio specificate nel dettaglio. Sarebbe troppo bello di avere sempre una scaletta dettagliata minuto per minuto e che poi effettivamente torni tutto. Una delle prime cose che bisogna imparare è essere pronti a tutto. Perché alle volte c'è bisogno dello stacchetto non richiesto? Ti viene chiesta una cosa sul momento mentre sei sul palco e devi riuscire a trovarla o quantomeno gestire la situazione. Devi anche magari saper ridere su, soprattutto quando hai dei comici o qualcuno con cui interagire, tuo malgrado certe volte. Sono stato molte volte bersaglio delle prese in giro che facevano ridere una piazza intera. E allora se sei uno che se la prende, forse quello non è il tuo posto. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, la postazione. Per quanto mi riguarda non mi limito mai in questi casi alla semplice console. Cerco di avere con me anche il computer. Primo per un maggiore numero di deck disponibili. Hai i due o tre canali del mixer più quello che puoi mandare dal computer. Ecco che torna molto utile anche il buon vecchio Virtual DJ. Non per mixare ma per avere lì altre due tracce disponibili e pronte. Quindi preparare tutto quanto possibile prima. Una, due, tre, perché no anche quattro. In modo tale da avere modo di poter intervenire sul momento. Oppure di essere preparato quando le cose filano lisce. In modo che torni tutto senza interruzioni. E allora il computer serve per tante cose. Perché hai lì il tuo database. Perché hai lì anche quello che non ti porti sempre dietro. Perché hai internet. Perché no. Perché hai modo di editare le tracce. Per esempio alle volte ti arrivano quelli del saggio di danza con Sì guarda allora questa fammela partire a 30 secondi. Questa qui subito dopo. Oppure mettere insieme tre tracce insieme sul momento per un singolo spettacolo. A quel punto con il computer te lo prepari tutto subito. Apri Ableton. Anche Audacity o quant'altro. L'ultima volta il mix l'ho fatto con il programma che uso per montare i video. Perché l'avevo già lì pronto. Prendi queste due o tre tracce. Le monti subito sul momento. Magari dopo che loro hanno fatto la prova. Quindi nella pausa. In modo tale che nel momento dello spettacolo hai soltanto una traccia da mandare. E non tre con la cosa da schippare veloce. Quindi preparazione prima il più possibile. E preparazione sul momento il più possibile. Per la regia di uno spettacolo di solito bisogna fare le prove. Quindi hai modo di essere lì molto prima. Purtroppo anche certe volte. Però hai magari tutto il pomeriggio a disposizione per aggiustarti le cose. E preparare quello che devi fare. Per quello che riguarda per esempio una sfilata. Segue il video dedicato. Però in questi casi. Io ho un'idea della musica che vado a mettere. E il resto delle canzoni me la faccio lì per lì l'idea. Certamente non durante la serata. Ma nel pomeriggio. Quindi cercare di sfruttare al massimo le prove. Per poter avere le idee più chiare possibile dopo. Lo spettacolo è una cosa in cui devi essere molto concentrato. La preparazione prima ti consente di essere pronto a tutto. Ma è importante essere veramente. Avere occhi su tutto. Avere modo di comunicare con tutti. E avere piena conoscenza di tutte le dinamiche che vengono a crearsi. Per esempio alle volte devi anche seguire un po' i tecnici. Se sei lì e vedi che qualcosa non ha illuminato a dovere. Che un microfono non si accende. Che c'è la cantante. Ok? Ti hai presente la scaletta. Allora dici anche guarda. Prepara il microfono della cantante. Perché tra un po' tocca a lei. Avendo te il controllo della scaletta. Perché passa più o meno tutto da te. Allora poter avere il polso della situazione. E comunicarlo anche con gli altri. Ti consente di fare le cose nel modo migliore. E di creare anche un bel rapporto con gli altri durante l'evento. Cercare di essere sempre un passo avanti. E di conoscere appieno tutto quello che succede. E tutto quello che potrebbe succedere. I cambi di scaletta sono all'ordine del giorno. Bisogna veramente essere molto svegli. Molto pronti. E anche sempre pronti. Sia con la musica propria. Per tappare eventuali buchi. Sia con il cambio di ordine. Delle cose che erano previste. Perché succedono sempre gli imprevisti. Soprattutto quando hai tanti operatori che si interfacciano. Oppure che magari il regista, il direttore è intelligente. E vede che una serie di tre balletti. Risulta lunga e noiosa. O sei andato oltre perché lo spettacolo è partito un po' a ritardo. Oppure l'intervista fatta al personaggio è andata lunga perché non si sa quello verrà detto e per quanto. Allora si taglia un balletto. Lo decidono sul momento e tendevi ad essere pronto a farlo. Occhi e orecchie per tutto e dappertutto. E poi, ultimo ma non meno importante, anzi, cercare di avere tutta una serie di repertorio adatto allo spettacolo. Gli stacchetti, simil camarè, le cose buffe, gli effetti sonori. Tutte cose che magari non sono richieste strettamente. Ma che ti possono essere utili. Possono far scattare la risata. E magari ti fanno anche fare una bella figura. Perché anticipi quello che succede. Intervieni in maniera carina, divertente sul pezzo. E allora succede che Eh, però, lui è bravo, se la capa bene. Gli operatori sono contenti. E insomma, è buona pubblicità. Il DJ set acquisisce in quel contesto un'importanza molto relativa. Conta di più tutto il resto. E se lo vuoi far bene è un settore da percorrere, da approfondire, da studiare. Perché può essere un lato nel lavoro molto interessante e molto profittevole. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.